Musica Grazie a tutti i nostri amici 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 Non è stata una cosa che imparabile tutti gli italiani, tutti gli italiani sono partenari Non è stato un momento senza meno di casa, tutti non sono tutti e le loro obedevoli C'è un adeste che mi ha detto che non c'è il nostro piacerezza non è la mia nata e un giocatore non 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 un un il il non mais 15 a ma pe, oi baza va bidongolo miso, balingi shanzima ya kongote, soki baza na kati ya liensi na biso ya FCC cash, tampi pona vango, baza bandagadeja komi limi sa vango moko oopopilasio komi kukomprende kino, baza parmi batoyo, balinga ki shanzima ya mboka ote, nde toza ko pe sa vango misangarati, ya kowe di sa vango kino, bo tika, bo tika, bo mika kotakineja marika bonite, bo asam mokoko ya laki, elie officiellement par le peuple congolais ben un niveau à parlement, baza y est cadoté, il était voté par ses collègues députés et a quoi est bon, baza, marginaliser le qu'on a moké? non, vous avez l'obligation à vous respecter, n'est-ce que vous respectez, vous êtes le parti politique à biais ? mais le biais est 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 le biais nous ne buyons pas besoin de les millions ma Quindi, quando dicevole la coalizione di Maria Joana, c'è una causa. C'è una causa che non c'è. E' visto che non c'è la presidencia, non c'è una minorità nel Parlamento. Non c'è la geopolitica. Non c'è una minorità. Non c'è la difficoltà a diriger. La conférence è la coalizione. Non c'è la buona marge. Mesdite se che ci guarda la aika non c'è la catena. Ma cosa dice che non c'è la parte del Pino Europe. Si non c'è la parte del Pino Europe, il dì una parte del Pino Europe. Converte che ci sono dei pazzi in questa situazione. Non c'è la città che ci sono delle condizioni di Polhemi che sono dei paesi e delle politiche. E quindi, non letta ci sono delle progetti. E non c'è la posizione di crisi e di conoscenza. E non c'è la parte della scena via la parte dell'interesse del Pino Europe. che ci sono i stati che mi domanda che magari mi domande che va essere condensati. Quindi ci sono i stati che per la qualità di Strati. Chia un'altra cosa che mi domande che vi sono i stati che mi domande che mi domande che hanno intervistato a corrisposto alle loro 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 Non, 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 non. non c'est la problematica non c'est la problematica non c'est la problematica ma c'est cabella c'est lui qui l'immigrazione c'est l'immigrazione c'est une question il y a quelques images il y avait quelques adaptations il s'agit d'un coup on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y avait un peu de temps c'est le coup là il aura sénatère on a dit que le moment c'est le coup là il y a un peu de temps il y a une paix il y a une changement il y a une autre c'est que c'est le seul volonté la violence mon amour je pense que c'est un peu qui a changé la garde la garde les autres les autres les autres Il che ha già cambiato veramente, e tutti i campi senza chiarire il paese. Ti senti la signatura come in sicurezza, come in danger? Non, prima e sto facendo la riga di essere la regione del paese, che è in grandione che è una regione alla generale che sia la nazione, che sia il modo. Non ci non prima cosa ha, non è sempre presente che in chi è il paese il premere la regione non c'è più jamais tocco qui provo a voti raison pour laquelle etre tomo conti polo a promenato con disney a la macchina kimia passiva qui se tirer manegro si può accompagné par tu pennelli saravano tech ma carri approché la bagnade presenti el bono domenio mago a soi-disant bassino ma barba morrisse sui ma il faut rima che non del gasa wana azana plai doigti accoglie c'est tipo ea tampona per l'amore della città una traccia per la vita e famiglia e rosa da gemma colté ma ezzana mon normal soli a sale comunico le calabè commessa l'anamo la mia famiglia è stata una filosofia data una effettiva da un'aventura il voler moco ma commissara e sottotitoli che non c'est un'euro che non c'est un'euro che non c'est un l'euro monimigna è l'euro monimigna è l'euro monimigna è l'euro monimigna è la raison pour laquelle asa sensi a contrôlato ragina et non manio su ma commente la pubblicità non c'è n'a rien a voir et ça n'a un partiment coté baticano barba nous allions associati à changement en boca wana il a les responsabilités la vita qui m'ont condi alors après la consola mais cela n'exclut che non 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 ma c'est la scuola e filtriamo racconta qui vola il ya moins d'un des mots contenuti a mes campi vraiment con le salat sistema di non ben je te racconte il tout a l'impression d'un sommar congolais so qui filtrano a rosa la catia ma tourèche il ya basso da te batrage il ya pas proche amour con jambon pas ma moko barro c'est faire toujours aussi découvrir à l'épau abbiamo un po di pomme una città era per la città è che sia una signa la populazione c'estate servite orangopoulos nella comanda più congola e sarà Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma tutti i nostri ammoli e tutti i nostri ammoli tutti i nostri ammoli e attenzione alla parte della coalizione coalizione se si può essere il mario in una cosa che abbiamo già fatto senza fare il di bella che era preparare assolutamente come sono qua l'asera maggiore ma ora non è venuta perché il congo non ha bisogno di attività congolano ha bisogno di un changement come questa lo parlano durante la figura al FCC mi dicevano, mi condanno i loro indietro la loro politica è bella e così fuggono come un'eciopata in cui mesi amici iniziare unaНa alle persone congolano se non solo con un'eciopta Grazie a tutti i nostri amici Tu cosa rimanere? Si hanno fatto una squadra di ragazza, Dichora cosa si surroundingi a te sorprendere? Siamo alla vecchia del regno della 조� både la ragazza e si non è una cosa sinistra. Se vi accelere questa... Abbiamo con una cittatura. Si siate attorno a una cittatura, l'onore alla alla squadra che gli amici sono un liste e un po' verso il gruppo. Siamo alla chiamare il Presidente a Giavone, e la mia dunia è una cittatura di ragazza, qui voici il ya un paese a cercare des fissures ma mission qui est dépendante la cd mais il ya un bata boccia riconessor il a gracia autonome la mannette joseph cabanier cabilla yung de sani et c'est moi vraiment ici quand c'est sur les échappatoires madame la gracie là comment fait-il qu'ils ont Non, 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 non. e c'è tutto quando abbiamo pubblicato non ci sono stati non c'è un concursionale concursionale a tranché non c'était un decolabiso felix attuante c'è da dare la presenza della Repubblica non c'è niente e sa popolazione e sa volontà non c'è un volontà non c'è un candidato non c'è un volontà volontà n'è non c'è un candidato non c'è un candidato non c'è un candidato ntenosity non c'è un contrat senza c'è un ritmo tutte le recostante non c'è un candidato non c'è un candidato non c'è un candidato non c'è un candidato ci entriamo non c'è un candidato non c'è Rabbilois Sì, però ci sono i paesi che i ragazzi di cazare, se ci sono i ragazzi che i ragazzi fanno bene, e che ci sono i ragazzi di chiudere. È una cosa che si può fare, è una cosa che ci ha fatto, che si può fare il nostro amico, è una cosa che si può fare, è stata fatta che il nostro amico a riuscito, c'è il nostro amico a riuscito, verrà la nostra sicurezza, o che si può fare il nostro amico a riuscito, è una cosa che ciò che non è un'occhio di consiente. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. I ricordi che avevamo il progno, che avevamo il progno al progno, e che avevamo il progno al progno. e si non è così, perché arrivare a Feliq Seki è il suo lavoro, ci sono delle derivazioni congolese, ci sono Josué, ci sono Moise, ci sono dei cambiamenti congolese, tutti questi sono dei cambiamenti, feliq Seki è il suo lavoro, ci sono delle derivazioni congolese, perché ci sono dei variamenti palpabli, altri santandari, ci sono vissi graffiter, ci sono vissi La sua sottotitura era una famiglia di più che ci cerca di 10 milioni di più si vincere la mia famiglia di più che è la sua vita. Perché Gare è statoile e la sua famiglia di più che è il loroismo, cioè il loro fatto il loro appunto, e non hanno fatto ancora un sacco ma non è stato solo, ma non hanno fatto un sacco di più di più che si è un sacco di più, ma non si è il loro unico, ma non hanno fatto una cosa che fanno senza di più che a un sacco di più. e questo posso capire il famoso se vieno e se vieno sono capace di avere tutte le promesse di Fioniere se vienere su le promesse di Fioniere quindi si vienere i nostri ragazunzi prima ora hai ragazunzi che ci sono i nostri amici e dei nostri amici dei nostri libri c'è una giornata di classe non è un po' di quattro mesi amici c'è un po' di santi i nostri amici a lavorare per l'aggiatura per la gratuite e la gratuite a già stato in questo non è l'aggiatura gratuite ci sono certi alcuni ecoli eglise catholiche che gli altri hanno scritto che vi dire la volontà di raccogliere la volontà di la constituzione o il signo gratuito un sacco di colo felix antonio segreti l'abrivo piena società non per la chanze ma a cambiato non poter a fondamenti niente ai ebc bassi indica nava responsabile ave con le conventione asana servite la séance di travail nabamo con la pubblica quindi la crisi di una era unico con prensione della catolica una prima di unico lì al lì da nava quelle che con con questione l'occolato salitista kimballistare protestante che abbiamo il mio i miei figli e mi figli e mi figli erano è così gli erano che si sono tutti da un m ventino perché noi siamo in quella dell'ammbaldo questa è la mia mia vita che ci si a riprendi l'abbiamo economica non è che ci sarebbe realizzato prima. non Insomma il journaliste c'è il nostro canale qui si è stato fatto e che non c'è nel niente C'è quello che ci dice, il nostro canale, il nostro canale, non ci c'è, ma chiamo che noi diciamo che in i Congolini non c'è la cosa che ne haavais messo come ne ha detto il nostro canale, se il nostro canale, questo ne ha detto di non c'è la constitution se non la disposizione è un'unione sotto a promettato il sottomoni amo con le internazionale pancini costuma bisous si le plan finanziere et c'est mieux alla baguette mondiale patina cofinancé bisous par a au moins un milliard vana popper saman est soutenu gratuite ma la santé et ça déjà un acquis bidire vota voté le loi 10 milliard les amores a bidire ma priva napoli banca la repartition a la disposition non so qu'on a voté a peter enseignement et funzionare normalmente. Se che mi ha constatato, mi ha detto che i primi e che i primi sono i primi, e la prima di vannaggio è che i primi insegnanti, o che ci sono anche alcuni ecoli che ci sono i primi. Si ho convoqué, i dirigi che i primi, i primi, i primi, i primi, i primi, i primi, che sono stati che sono stati molto semplici nel partito del regione. Il è quello del regione, ma il regione è stato detto che è stato un po' della coalizione? Non, il regione è stato un po' di coalizione. Qui aveva qualche realtà che ciò che era da coalizione. E ciò che ciò che aveva un problema che non ha la rappresentatività del parlemente. che avviano sono i raggi, senza i raggiù. Per lo stricteranno con i FST, o che vince i Draghi Ungo, se sono state iniziative, nelle piccole, nelle solo persone che viene il proprio poi, ma troppo stricteranno inしました. Non lo stiamo dicendo, siamo tutti i sottotitoli dell'Estationsità, il comandante della Suprema, siamo siamo stati simboli della Repubblica, siamo tutti i Gchi, Non, 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 non. Grazie a tutti, grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti, Mme Graciela. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.